Oggi assaggio e ti mostro il gelato Grom, il cono al pistacchio e variegato cioccolato. Sono dei coni non in dimensioni standard ma leggermente più piccoli. L'aspetto come vedi è molto curato. Io ora ti posso parlare del profumo. Si sente il profumo di nocciolato, pistacchio, comunque all'interno troviamo la variegatura che è fatta di crema al cioccolato e nocciolato. Anche come sapore è buono, molto buono. Sembra come un gelato di gelateria, mangiandolo posso sentire bene i gusti del pistacchio e del cioccolato. La crema è molto cremosa, la crema al pistacchio del gelato. Se dovessi parlare e vedere solo la crema, giuro, non direi mai che questo è un gelato confezionato. Sembra proprio un gelato di gelateria. Io l'ho preso ieri ed è da ieri pomeriggio che sta nel mio freezer. Mentre sto mangiando il gelato puoi vedere che il gelato è variegato anche in profondità all'interno del cono e soprattutto è bello pieno di gelato. Sulla punta della cialda del gelato si può trovare la punta in cioccolato. È morbido come cioccolato, cioè sembra mezzo sciolto, però non aveva sporcato prima la carta del cono gelato. Quindi il cioccolato è rimasto dentro la cialdina. Buonissimo! Io ti aspetto nel mio prossimo video e magari recensirò a un altro gusto. Ciao!